Viva l'indipendenza nazionale! Viva! Viva Mexico! Street food, musica, artigianato e vestiti ricamati che cuciono quel legame speciale tra Busto Arsizio, città che ospita l'evento, e il Messico, nazione che, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni di rapporti diplomatici con l'Italia e in concomitanza con il 214esimo anniversario dell'indipendenza, per il secondo anno si promuove attraverso l'Associazione Culturale Messicana al Museo del Tessile. In collaborazione con il Consolato Generale a Milano, l'ex cotonificio bustese ha infatti ospitato una due giorni per rafforzare il legame delle comunità messicane e italiana, con un momento di condivisione con la mostra fotografica sui palazzi della capitale, oltre a balli folkloristici.